Per Rutelli e di rifondazione Ferrero, la campagna elettorale continua ad essere caratterizzata da scontri e polemiche. Il servizio di Lidia Tilotta. Più si avvicina la data del 28 ottobre, più cresce la presenza dei leader nazionali. Stamattina a sostenere le liste dell'API e il candidato alla presidenza Crocetta, a Palermo è arrivato Francesco Rutelli. Per Rutelli l'appoggio a Crocetta, che condivide col PD, l'UDC e socialisti, è in linea anche con la decisione dell'API di intraprendere a Roma un percorso con i democratici. Io penso che per la Sicilia ci voglia un programma di ricostruzione, di risanamento, di sviluppo economico e di fiducia. E Crocetta ha i caratteri giusti. Crocetta ha rilanciato sulla vicenda termovalorizzatori, sostenendo che la convention di domenica mostrerà il video che dimostrerebbe l'accordo PDL-Miciche. Il candidato di Grande Sud, Finiani e Partito dei Siciliani, si è imbarcato questa mattina.